Tu stai seguendo il tuo destino? Come fai a sapere se è il tuo destino? Perché le cose vengono da sole, non senti più i pareri di nessuno. Ascolti, guardi e fai tu, fai tu, solo tu. E soprattutto senti dall'interno, dal profondo, la certezza dell'incertezza. Aspetti qualcosa che il giorno prima non sapevi. Il contadino mette il seme nella terra. Il seme sta nascosto nella terra, nel buio fa le radici, in alto il germoglio. Ciò che ci crea sta nascosto come stanno nascoste le radici. Questa maledetta malattia di voler capire. Io per saper se uno è un coglione, sai da cosa lo capisco? Da quando dice dottore io so come sono, io so chi sono. Nessuno sa chi è. Goethe diceva non voglio conoscermi, forse resterei anche deluso. Tu vuoi star bene? Vuoi star bene? Incomincia a dirti ogni giorno che c'è altro. C'è altro che non vedi, c'è altro che non sai, c'è altro che fa cose che non sono quelle che tu ritieni importanti. Il taoismo 2500 anni fa, dove ci sono stati i più grandi conoscitori del mondo interno, davano alcuni consigli agli uomini che sarebbero venuti. Il primo consiglio era questo, che se c'è un pensiero predominante, sei fuori dalla vita. Ci sono tanti altri mondi dentro di te, oltre a quello che vedi tu. Ci sono tanti altri mondi, oltre a quello che vedi tu. Tanti altri mondi, se ne vedi uno solo ti ammali, se ne vedi uno solo ti ammali. Tu puoi conoscere tutte le leggi economiche del mondo, ma se non stai bene con te stesso prima o poi fallirai. Bisogna averlo ben chiaro. Svediti la mattina e dici, io non sto bene con me stesso, ho vicino le persone giuste, faccio le cose che mi piacciono, e poi aggiungi altre cose che avrebbero detto i taoisti. Le cose mi vengono spontanee? Mai, assolutamente mai, mai, prendere decisione nei momenti difficili. Mai. Quando hai un tuo rapporto affettivo in crisi, e dici la lascio o non la lascio, sto con lui o non ci sto, mai nel momento di disagio prendere decisione. Perché? Perché quella coscienza nascosta aurorale, che appartiene ad un regno che non conosciamo, ha dei saperi terapeutici che la coscienza attenta non ha. Se non ti porti dietro i codici nascosti che abitano dentro di te, tu fallisci. Non è detto che fallisci per i soldi o per il business, fallisci perché cadi in una crisi profonda. Io ho visto grandissimi prenditori ed entrare in crisi depressivi e senza ritorni. Bisogna saperlo. Bisogna saperlo che il successo è momentaneo, è solo momentaneo. Non dura, successo è già successo. Due, c'è qualcosa dentro di me che non so cos'è, che ha dei poteri che appartengono non al regno del mio sapere. C'è un non sapere che sa cose che non so. Quando c'è un problema, pensarci e ripensarci vuol dire complicarlo. Complicarlo. I vecchi, quando c'era un problema, sai cosa facevano? Ci dormo sopra. Francamente io ritengo che gli uomini che hanno un grande successo nella vita, ma un successo che regge, hanno tutti delle caratteristiche molto simili. Primo, non ascoltano nessuno. Fanno finta di ascoltare, ma non ascoltano nessuno. Due, quando prendono una decisione vanno diretti per la loro strada. Tre, sanno custodire i segreti. Un grande uomo, una grande donna è tale solo se sa custodire i segreti. E smette di parlare di sé. Vuoi star bene? Smettile di parlare di te. Quattro, smette di parlare del passato. Perché il passato è morto, è morto. Ci sono persone che si lasciano e dopo dieci anni sono ancora lì a ricordarsi. Ma lasciato? I rancori sono sostanze chimiche nel cervello che lo annebbiano, lo intossicano e gli portano via le capacità che ha. I grandi uomini sono piante che vanno verso il loro destino. Perché? Perché? Ognuno di noi ha un suo destino. Se non lo fa, dice Goethe, meglio che abortisca. Seguire il tuo destino vuol dire ricordarti che sei una pianta unica e che i frutti che fai tu non può farli un altro. Il successo nel lavoro viene da una sola parola, la solitudine. Sei solo. Il successo giovanile invece è sempre collegato a troppe parole, a stare sempre in mezzo agli altri, a parlare con gli altri, a non essere mai solo. Gli aperitivi diventano bevute. Non sei mai solo. Senza il silenzio, senza il vuoto, senza l'indecisione, senza l'insicurezza, senza la fragilità non potete fare business. I grandi industriali, io ho avuto in cura grandi uomini, tutti avevano capito una cosa, i risultati si ottengono con naturalezza e spontaneità, mai con lo sforzo. Fa fatica una pianta a fare il fiore, perché tu dovresti stare fatica a vivere. Questo non significa che non farei fatica a lavorare, questo non significa... E' come il bambino quando gioca, gioca fino a che è stremato e poi dorme. I bambini sì che saranno dormire. Ma cosa conta nella vita? Essere semplici, naturali e senza opinione. E soprattutto non farti influenzare dall'opinione degli altri. perché dentro di te c'è qualcosa che sa sempre dove andare. E soprattutto non farti influenzare dall'opinione degli altri. Grazie.